buongiorno che mai capitato di essere poco esperti nel settore beauty e avere fra le mani delle maschere che non sapete manco voi che cacchio che significano che cacchio che dovete fare tipo me su video tratta questi argomenti ovvero maschere and company sia oggi ho deciso c'è in realtà l'ho deciso ieri ma questa cosa verrà da oggi scusate se so c'è sta un po senza filtri ecco diciamo ma ecco su perché vorrei appunto fare una cosa carina con voi ovvero provare queste carinissime maschere quindi veramente stavo a di ieri ho deciso che siccome c'è 300 miliardi di maschere che io non ho mai fatto perché come sapete io non sono diciamo non sono esperta ma non sono neanche informata proprio essenzialmente cioè se io mi trucco e se so cos'è una bb cream è già assai dunque quando questo natale ho avuto questo natale e anche recentemente ho avuto delle maschere un po da douglas un po da pink panda non so se conoscete pink panda ho deciso che siccome non le sapevo fare non so che se cioè che meno fa che servono per la cura della pelle e insomma siccome tutte ste cacchio di maschere che non so che me ne devo fa ho deciso in questi giorni che non sono a casa mia ma sono facendo un lavoro a un altro posto ho deciso così facciamo qualcosa di diverso quindi in questi giorni per perdere tempo farò queste maschere ne farò una mattina e una la sera non so se sbaglierò diciamo con quelle che vanno fatte la mattina e quelle che vanno fatte la sera io ora ve le mostro in pace allora prima di tutto da dal box di mini panda di mini panda di pink panda ho avuto queste 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 qui molto caroline praticamente c'è avocado clay mask lai maschere che sono in inglese io in inglese sono pessima quindi leggete voi e questa è la prima maschera essenzialmente avocado questo è chiaro seconda maschera cannabis sanitiva e sativa cannabis sativa pellof mask questa qua come potete vuoi come potete vuoi qui abbiamo questa alla maccia and kia clay mask qui abbiamo questa blueberry sarebbero tipo mirtilli se non voglio si mad maschera mad maschera mad maschera poi abbiamo questa altra sempre da pink panda che però non era nella questa è proprio difficile da leggere da capire da interpretare essenzialmente c'è scritto che è fatta con qualcosa del mar morto quindi proviamo e vediamo e infine abbiamo questa di douglas ha avuto nel calendario dell'avvento di questo natale sembra molto caroline qui però pure assi questa è l'unica che c'è scritto in italiano c'è scritto maschera flash idratante diciamo che avevo pensato non so perché c'è non mi chiedete perché perché ripeto non ho proprio idea che queste dove c'è scritto clay mask credo siano per pulire boh la pelle vabbè quindi pensavo di farle di mattina queste e queste altre due di sera mattina sera quindi eventualmente poi l'altro giorno avrei diviso queste due questa la mattina questa la sera andiamo facciamo non so se provare prima con il douglas proviamo quella di pink panda vediamo un po questa avocado clay mask perfetto quindi andiamo con la maschera all'avocado io spero di non fare porcherie perché qui non so sì 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 eh eh covid no no allora devo senza amare che non ho con me le mie frontierine magiche quindi dovrò fare così sarà un po tipo albis albis in the map is bene andiamo ad aprir questa cara maschera e vediamo cosa c'è che io non ho più idea forse non dovevo aprirla tutta comunque che buon odore di avocado per sapere che a me l'odore dell'avocado mi fa schifo se a voi piace dunque vediamo cosa esce qui dentro al momento vedo solo liquido capisco capisco io credevo fosse tipo maschera proprio che si mette in faccia invece no è un liquido bene a maggior ragione ho fatto male ad aprirlo tutto andiamo dunque a vedere cosa c'è e niente come potete vedere se vedete ma non vedete c'è questo liquido verdino sembra anche strano di consistenza vi ricordo che io non ho mai fatto una maschera in tutta la mia vita vabbè andiamo oh e fa tipo scrub come faccio a sapere cos'è lo scrub non lo so ahaha ui Ok, volete sapere E' una cosa davvero divertente e fantastica Io ho ancora la maschera in faccia Non so quanto devo tenerla perché non c'è scritto La cosa assurda è che Assurda Non è poi così assurda Dato che io non so l'inglese Lo so, l'ho studiato pure Ma che presto a dire Il problema è che Niente Le cose così Insomma Strane che non sono tipo De cattis on the table Non le so Che cosa ho scoperto? Che bella ripesa del cacchio Qui non si riesce a regolizzare Ho scoperto che Clay mask Essenzialmente vuol dire Maschera all'argilla Io che credevo Clay mask Una cosa più adatta Alla mattina Non lo so Tipo pulizia Non lo so Capisci? Capite quanto sono fantasiosa Invece si insie la maschera All'argilla Infatti Sto iniziando un po' a tirare Ma ne ho messo anche poca in realtà Perché qui ce n'è ancora un sacco Vabbè Sarà per la prossima Niente ragazzi Quindi ci vediamo Alla fine di questo Processo In cui Vedrete la mia pelle depurata In realtà Non vedrete alcun cambiamento Ma Dettagli Ok cari Niente Ho Risciacuato In realtà Non so se è una mia Non so se è una mia Filtrazione Ma Vedo Leggermente la pelle più Non saprei dire Però la le vedo Leggermente Diversa E Mi sento fresca Questo è un po' come assicuro Cioè mi sento molto fresca Quindi diciamo La sensazione È questa Poi Ovviamente Bisognerà continuare a farsene Io Non 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 lo farò Perché non le compro Simplemente perché Spendo i soldi In altro Ovvero Trucchi da fare Da buttare Cioè A buttare Ed ragazzi Dopo questa Bellissima sensazione Questa purezza Questa Freschezza Io farò una cosa Che non so se è giusto Farla Ma generalmente Io la faccio Quando mi lavo Mi lavo la faccia Ogni mattina Quindi la farò anche ora Non so se serve Non so se è utile Non so se è sbagliata Fatemi sapere Al momento Ho questi due E finisco questi due Sono praticamente Dei campioncini Di Yves Rocher Che mi hanno dato E Ovviamente Questo qui Ovviamente Non si vede Come tutto il resto Delle cose Vabbè Insomma Ve lo leggo Praticamente c'è scritto Sensitive chamomile De michelare Water Acqua micellare Dopodiché Vi metto questa cremina Carina Molto carina Che è Elixir Jeunesse De Jeunesse Niente vabbè Qua dice Che ripara E Ripara Ed è Anti Pollution Non so cosa sono I pollution Restructuring Che Comunque Comunque Io non sono vecchia Non ho rughe Non ho un cacchio C'è più che altro I brufoli Però questa crema È molto carina Tra l'altro È l'unica che mi sono portata Qui Quindi fatevela Abbassare Quindi andiamo Io faccio essenzialmente Questa cosa Perché mi cade sempre Tra le mani Questa cacchio di acqua A me c'è andare Ok ce l'ho fatta Una pomo bene bene Da per tutto Ok Ok andiamo a mettere La cremina Che questa Non ve l'ho fatta vedere Ma tanto Non si vede Quindi non ci provo Nemmeno Insomma Per oggi abbiamo finito La cura Del nostro viso Stasera Poi vi mostrerò Diciamo Struccandomi Un'altra crema Un'altra Oh cricchio Ma perché 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 Un'altra maschera Ovvero Abbiamo detto Non lo so Facciamo la cannabis O blueberry Vi faccio aspettare La cannabis La farò per ultima Di oggi facciamo blueberry Poi Antiossidante E rinfrescante Cleanse Cleanse And soothe Your skin To perfection Vabbè Mi leggerò la traduzione Ve la farò sapere Quando farò Il video Stasera Addio Eccoci qua Siamo alla sera La mattina Ho fatto Questo Questa maschera Di cui voi Vedrete Il video E stasera Cioè ora Faremo Quest'altra Maschera Scusatemi Se sono un po' Moscia Ma ho avuto Una giornata Molto triste Comunque Andremo Prima di tutto A rimuovere Il trucco Con la tela detergente Di Douglas Che io ho avuto Sempre Nella mia Favolosa Nella mia Favolosa Prendere Nell'avvento Di questo Natale E niente Quindi ci vediamo Dopo Senza Trucco Ok Mi sono Tolta Tutto Il trucco Ehm Dovrò Sbrigarmi Perché La luce Se ne va Allora Quindi facciamo Questa mascherina Qui Vediamo Un po' Stavolta Sarà più Intelligente Non la aprirò Tutta Ok Let's go Mmm Questa è un buon Adore di mirtilla Ragazzi Vediamo Vediamo Oddio In teoria Dovrei aprire E' andata Così Però Questa Non è Scrab Per buona Sarà Good Tutto Sì Influz ok vediamo un po tra un pochino la togliamo questa già mi tira un pochino la togliamo e vediamo come va intanto vi voglio far notare la mia maglietta super figa troppo figa ok ovviamente tutta la luce se ne è andata dato che è una maschera selare quindi va fatta di sera andiamo a risciacquare mi sento veramente questo è più brutta di quella di prima cacchio va bene andiamo a risciacquarla vediamo cosa succede e ragazzi siccome in tanti stavate attendendo risposta per questa fantastica crema dalgo sacri questa fantastica maschera vi posso dire che è antiossidante ok rifrescante sì allora devo dire che ho preferito quella di stamattina mi sentivo più la pelle più fresca questa sì però non sento molta differenza rispetto a quando non l'ho fatta detto ciò niente ragazzi questa è il mio è il mio giudizio per questa maschera sì ma anche no meglio quella di stamattina quella all'avocado sicuramente domani proverò quella al matcha e kia matcha e kia c'è manco che è kia vabbè essenzialmente questa dovrebbe far rispendere la mia pelle finiamo tutto il lavoro con quello che ho fatto anche stamattina ovvero acqua micellare e crema l'ultima cosa dato che si va a nanna volevo mettermi questo che sarebbe un scrub per labbra lo tengo un pochino dopodichè aggiungerò il mitico balsamo per labbra sono entrambi della NYX e li ho trovati entrambi nel sempre nel calendario dell'avvento di posto natale andiamo a mettere lo scrub che sarebbe circa fatto in questa maniera attendiamo qualche minuto dopodichè dopo aver aspettato qualche minuto che insomma si tolgo per rimuovere appunto più che altro lo scavolo e andiamo a mettere il nostro balsamo e voilà bene ragazzi spero vi sia piaciuto questo genere di video mi dispiace veramente tanto che quest'ultima parte forse vi potrebbe essere risultata un po' noiosa io di solito sono più attiva come avete visto nella prima parte del video che purtroppo come vi ho già detto ho avuto un finale di giornata abbastanza deprimente che non sto qui a dirvi e quindi niente ho un po' di difficoltà poi quando sono di questo umore ma comunque andando avanti adesso vi lascio ai saluti finali fatti nel fatti stamaglia registrati stamattina quindi niente vi lascio ai saluti finali prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale metto qui il nome iscrivervi alla pagina instagram dove ci sono diciamo tutte le piccole novità dove dove dico cosa farò e dove anche metto foto e dove anche vi faccio ridere un po' di tutto un po' così e questa è la il nome mia pagina facebook così eventualmente se volete seguirmi anche lì è questo e niente vi ho lasciato tutto vi chiedo se vi va se vi siete divertiti più che altro perché qui sul mio canale più piatto ci si diverte cioè il resto è così cioè è di più però essenzialmente ci si diverte quindi niente spero vi siate divertiti e buona vita ciao 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 ciao